Nel giorno di Santo Stefano, Matteo Salvini apre il cassetto dei ricordi e mostra il suo contenuto su Twitter. Già, perché il leader della Lega, sorridente e parzialmente nascosto dalla cornice, rilancia una fotografia in bianco e nero. Fotografia di molti anni fa, quando quello che sarebbe diventato il leader della Lega era ancora un Boy Scout. La foto era quella scattata dal 5 gradi branco per gli auguri di un Natale di parecchi lustri fa. E rilanciando lo scatto, Salvini chiede ai suoi follower di risolvere un piccolo enigma, chi trova il piccolo Salvini che faceva il Boy Scout 40 anni fa? Provate ad ingrandire la foto e a trovarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.